Capita anche a voi di attraversare momenti di sconforto, di delusione, di scoraggiamento? Una mia paziente, in un momento di grande sconforto, mi scrive queste parole. A volte penso che dovrei scendere dal piedistallo perché sto puntando troppo in alto. Forse è qualcosa che esiste nei film e non nella realtà e che mi porterà a non avere un uomo al mio fianco e a costruirmi la mia famiglia così desiderata. Riconosco i pensieri e le parole distruttive che purtroppo sto utilizzando nei miei riguardi. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi. Capita a tutti di avere degli alti e bassi. Quando questo vi capita, prendete carta e penna. È importante scrivere e registrare i nostri pensieri in quell'esatto momento in cui si manifestano. Iniziamo poi a pensare, dopo aver trascritto tutti i nostri pensieri negativi, perché dovremmo abbassare i nostri standard? Perché dovremmo rinunciare ai nostri sogni e ai nostri obiettivi, anche se ci sembrano così lontani? Perché dovremmo smettere di credere noi stessi per perseguire ciò che conta davvero per noi? Il percorso sì, potrebbe essere pieno di sfide, ma se abbiamo dentro di noi la convinzione di poterci arrivare, anche tu puoi superare le tue sfide e raggiungere ciò che cerchi.